La città di Monterosso ha voluto ricordare Vincenzo Curigliano, brigadiere del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, deceduto tragicamente in servizio il 18 settembre del 1970 durante i muti di Reggio Calabria. La cerimonia religiosa, ufficiata dall'assistente spirituale della Polizia di Stato Don Maurizio Raniti e dal parroco di Monterosso Don Angelo Facciolo, si svolta nel cimitero la presenza dei figli e dei parenti della vittima, autorità religiose, civili, militari e rappresentanti del LAMPS di Vibo Valencia e di Reggio Calabria. Nell'occasione, il personale della questura ha deposto una corona inviata dal capo della Polizia. Il brigadiere Curigliano è morto nel corso dei muti di Reggio Calabria a seguito della frattura riportata alle costole che gli provocò un arresto cardiaco mentre era, assieme a numerosi colleghi, asserragliato all'interno della questura di Reggio Calabria presa d'assalto dai manifestanti che contestavano con assommosse popolari la decisione di designare Catanzaro anziché Reggio Calabria a capoluogo di Regione. Mio padre infatti ogni volta che andava diceva io so che vado ma non so se torno però vado perché è giusto che il mio impegno, il mio servizio è per la collettività e questo infatti a noi ci... infatti quando mio padre andava in servizio era sempre una tragedia per noi però se ho detto queste parole ci dava un senso di pace, di tranquillità perché sapevo che mio padre faceva qualcosa di buono nella società e poi quando è successo il fatto giustamente come potete immaginare è stata una tragedia interiore che tuttora a distanza di anni si vive, non si dimentica. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo Vincenzo perché ho vissuto i tumulti che ci sono stati a Reggio Calabria e dicevo questo che ogni anno nel ricordare va bene colui che si è immolato per la giustizia per la legalità mi ricordo di ritorno bambino e ho vissuto quel periodo che è stato traumatico anche perché io venivo da una scuola dell'Apolizia di Trieste e subito dopo sono arrivato a Vivo Valente sono stato catapultato a Reggio Calabria perché erano gli inizi di quel periodo bruttissimo